Bene, abbiamo il video del Consiglio Sporbicitario e adesso in studio del TNG. La televisione del Tattano è una bella televisione sempre presente su telegiornale ogni cosa, sinceramente, mi dico tanto per la cultura sarda, per la lingua che teniamo. Ed è una cosa bella. Ogni giorno cambia. Cantatori, tenores, costumes, ballos, chorus, non è che tutto. La cultura nostra è il Gai. E non ha chiesto di perdere mai se è possibile. Carmela, la molletta si ha trasposato. Come ne avete su un'altra, però? Diregiamo su un'altra, io possiamo rappresentare proprima cosa, quasi a Padre Lucca Cupeggio. Ecco, bravo. Un grande poeta. Dei numeri sicuramente conoschete fino a qualche ottava, qualche quartina di Padre Lucca la conoschete sicuramente. Abbiamo lamentato e scorda a te di narano rosa e di mandare rosa 3. Esatto. Ma se tu hai rosa 6, di mandami a te la cosa. A te la cosa, bravo. Bravo. Narai a Padre Lucca. Bravo, Carmela. Padre Lucca è stato un uomo che ha dappato una vita abbastanza... Namo stribulata, namo stribulata. Esatto, bravo. E sicuramente... Scusatemi. Scusatemi. No, scusa tu appena, appena. Casi un cosa, perché mi devo spiegare questa cosa. E dentro, terremizza, discoso, sardoso. No, per l'italiano pure, ma non mi interessa sinceramente. Però sardo sì. Carmela, scusa per me la poesia di Padre Lucca. Scusatemi. 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 Pronto? Oh, ciao Alfred, pronto. Buonasera. Eh beh. Beh, è davvero che non ti vado a fare un'altra istruzione politica proprio? Ma... Ma perché dei nostri costumi? Ero sui degni, mi dà. Lui sui degni. Antonio Monni, ti vado a fare un'altra? Come ti stas? Eh, stavo bene. Non ti vado a fare un'altra. Scusatemi. 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 Eh, non l'ha fatto. Scusatemi. 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 Oh, comunque se mi tratti telefonate, che donate, Sapa, tu, Attissi, Gigi Samp, ha fatto un bello libro, lo deve presentare sinceramente. Si viene e fai piacere, compreso ma. Eh. Eh. Perché non dico si voto. Va beh, si può dire. Tu mi salutas caramente? Eh beh, sicuramente. Si voto biello. Si voto biello, però. Eh. Mi salutas a Muteridua, a Fittestuosa, a Manto, a Manto. E terminate questa signora da battata, Carmela. Insomma, mi spieghi, la madre è questa. La battata. Eh beh. Scusatemi. Eh, eh beh. Scusatemi. La storia delle tradizioni. Esatto. Che a Montesu, davvero. E tu? Oh. Che fai da di saldo pure all'interno. Eh. Ma ma già non si usano la propria cosa? Facciamo un finanza italiano. E la compresa. E la compresa. La compresa. Però mi dava che devi usare il recito. Ah. Ecco. Bravo. Che la recita bene. Eh, il recito mi dava che devi usare. Eh beh. Cosa che sono meravigliata, che io, mi capo a morso di imparare, che non sai di imparare ne manco. Eh eh eh. Noi imparavo ormai, Anto, tu, a rischi. Ma non vi credo, non vi credo. Eh, non vi credo se c'è. Che l'hanno già visto. E le fatte le mie costumi. Eh però, il guy. Va sempre ad imparare. Bravo Anto, bravo. Comunque, se chiedibiliare. E padre Luca, a voi spiegate. Che hanno, hanno troppo bene, hanno. E adesso manco. Assolutamente. Qualche altra si intende. Qualche svago. Qualche nozione poetica. Che è una variegale. Eh. Non si presentano. E se ci presentano, sono poeti. Esatto. Però, quanto mi scuso un attimino. Carmela, ti chiede il naso e qualche cosa. No, le fiabre contendosi. Padre Luca sono poeti che conoschete. Eh 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 eh. E tanto se ti li acconti come facciamo qualche cosa sua. Eh beh sì. Eh beh sì. E qui a faccare qualche cosa che è in rima. E questa rima bella di padre Luca. Rima. E questa metrica meravigliosa di padre Luca. Eh 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 eh. Ma hai scelto con la musica di padre Luca. Eh 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 eh. E beato a voi sì. Eh 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 eh. Quindi non so dei gusti, che è un po' di prova, ma è un po' di risposta. Stiamo rischendo il Padre Luca che vi è considerato suvrai l'alzio questa lingua. E da che è andato il Padre Luca, è stato un zio che mi da poter raggiungere tra i tre rompati, non è andato nulla. Eh già lo prego, già lo prego. E mai canto il film di battata che è andato al mio canale. Eh, bravo, anche bravo, bravo. Comunque, grazie a voi. Vediamo l'escolto, puoi te vi piacere se avessi soli stasera. Eh beh, certo, ti ringrazio. Saluto la famiglia, eh. Ciao, buonissimo, ciao. E stanno fino a provo contentare a te Antoni, che avevi ascoltato questa poesia del Padre Luca che è il sagorrincio. Eh, scusa Carmela, è una pena che devo salutare l'Albino, che vale del radio in Sosso, Benù, e lo salutiamo chiaramente. Radio Nova, lo saluto l'Albino e tutta la famiglia a mano se minore, sa? Ciao, ciao, ciao. Bene, abbiamo nato questo, che ti ringrazio con questo amico, e come intendo, non so, Antoni, come ti è ben entrato, come ti è telefonato, un bravo poeta, e intendo questa poesia del Padre Luca. Questa corrincia, in pratica, è una vola, è una bella morale sua. Sì. È proprio che si chiede presentare il Padre, che non sono sua, che poi fa che, di solito, non avviene male. Esatto. Questa corrincia. Questa corrincia. Sì, signore. O fiata di cala e fantasia, di alzare in grado, vattesi saproa. Che n'ha di fondo ne chircio ne doa una cuva, che li ha di infilzare. Non rende che mai ora i datone, preoccupitare qualche congiuntura, incontra pinna a rutta al debaone, che finì uno prodigio d'ermosura, si laspone e bene il fanfarrone, bella de voras, ma no de natura, si dispone de brin e de bravura, si sezi e si vesa da cantare. E te bella e galana chiso gomo, chibarzo un'areina majestosa, non mi conveni da tornare a domo, puristare che corrincia graccariosa, corrincedda spionno bolmentomo, chistate sin cussa era intemperiosa, che paone ha paffagher una cosa, chis universo sa d'allumenare. Ecco chisa corrincia e virgonzida, immesa sa spaone e salvettata, issos, in logo e sabona e nida, si la leana a bicosi e a ungiada, in pagora, sa gatta dispilida, in sala e in sa goa espignata, in siscarzo, in sa matta arrasigata, chibigria a paguali il ventrare. A domosi che torra, mani e trista, affliggita e piena de' aesi e de'oesi, sa sorris che laide morri vista, le naran, si è serasi stata anche in noi, non ti ha già il vido questa vista, di dispilire solfrades pa'oes, lo curaes che presuman so' scoccois, de' che scorros a poter arrare. Bella lezione, padre Luca. Ciao, ciao, ciao Carmela. Ciao Gianna, carissima, la mia carissima amica. Allora, volevo fare i miei complimenti per la trasmissione, e complimenti anche a te che sei una brava poetessa e una grande interpreta. Grazie. Ti faccio i miei auguri migliori. Grazie mille, già, grazie, grazie già, sei carinissima, ti ringrazio molto, mi incoraggia molto questa cosa, grazie, grazie già. Sono un amante della poesia. Eh beh, la poesia non è macchina per la bella, la poesia, la poesia non è nuda, non l'ho sempre di... La poesia è sia chi la fa, sia chi la rezidi, deve dare animo, alla vagare, poi il poesianimo, alla cantare e alla rezire proprio, però la potete scomprendere. Esatto. Mi raccomando questa poesia, poi la voglio rileggere, così me la tengo... Nel mio cuore. Te la porto, te la porterò quando ci vediamo e te la regalo. Ti dico, Gianna, che sto pensando di dedicarti questa poesia... No, mai ti fai di saldo, però, scusate. Come ti dico a freddo? No, perché stavo... È via, si chieda a Gianna, che ha freddo in italiano. Gianna, questa poesia ti la dedico ed è di uno poeta, Manu Tattareso. Mino Fuis, che è veramente sia come te poeta, scrittore, come te persone, una bella persone, veramente una grande persone. E a papi di Zubiagherde lo conosco personalmente e dai paghi, paghi il mese del paghi, e mi sono entrati su cuore, davvero. Sì, stasera uno se si chiede, spero che chi amo, gli do un abbraccio, Manu Manu, e uno aso che l'ha comandato per un messaggio, e come vi lo do davvero. Esatto, bravo, bravo. Ciao, stiunino. Mi piacere che ti dico questa poesia di questo grande boeta. Ti poto narre, schier veramente un grande boeta. Già. Grazie, grazie, grazie. Bene. Complimenti, ancora. Ti saluto caramente. Ciao, Gianna. Ciao, Gianna. Ciao, Gianna. Ciao, ciao, ciao. E stanotte a mezza del Messareppi, che stanotte a mezzanotte, e beh sempre sono due, casa, su Matessa, su telegiornale, e che hai via dicendo. Ho preso, Marcio. Come siamo in diretta, bello? Bene, Gianna che stanno andando, l'abbiamo salutata caramente, e come ne vedo questa poesia. Sì, la dedicamo a tutti i femmini, in particolare a Gianna che stasero non si ha amato. Bene, intendimola. Comare Cravarissa. Canto sei bella comare a si sculza, in San Danta mi pare su una vada. Fino a saluna si andesti spantata, su Brasaderra e Bratta allentorida. Asi in cara a colore avreschida, di viore di nilara al servaluzza. E telsa belleza è uno viore, assi scombatto d'où, Cravarissa. Pare il dessa natura asimpromissa, che non dà del suo tempo il suo erano. Costò il suo dolomento vittiano, il suo zino, chi rende il di amore. In suos ocio il luguito il bel si spera, in salmanos disidiosalizzatos. Anneos in su spilo il baricatos, fiores in peste e nel vettiria. Andas e andas in pedra liggia, sempre sa vita tua est un'angera. Ai, canto pianghe sin sisetto, canta luge a spedito a suos isteggios, de lambria salfronito sos aneggios, chi impoggi che sti fiori in decontino, de barca sin sanotte su cammino, si chi su coro d'oguna pretto. Canta il bella comare, Cravarissa, che in San Danta mi pare di una fata. Dei spera è stotta coronata, li fiori vinnlara al servaluzza. In camminera San Danta si sculza, de sa vita, mi pare si impromissa. Ah lì, questa bella poesia. Bella, bellissima. Bella poesia, veramente. A me piace a me. E beh, ti piace, che be' questa poesia ti piace. Sì, sì. Se non mi piace a te, non ti piace. E se non scrive da meno voi, si scrive se cantas così al bella, si scrive de profunda. Scusami, qui abbiamo su una telefonata, la vediamo. Sì. E se non come di ruolo si va a chiamare. No, no, no. E questo mi dispiaga. Non si sente. Intendiamo il chiesto. Pronto? Pronto, ciao Alfredo e ciao Carmela. Ciao Maria. Tu a San Maria è che non passa mai malattia, che a tenere Maria. Eh, magari. Eh, questo è un araz. E lo intendo. Questo è tu una poeta. Ma non hai? Eh, è il gai, Maria. Maria De Ue? De tata di gusto. Eh, de tata, le mi conosce. Maria, sale? No. No, 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 no. La fa verdere. No, la pia. L'ho vita in torretonda. Eh, t'ha vita. Eh, Maria Pozzolini. Eh, esatto. Ah, sì che ti conosco. Ciao Maria, un abbraccio grande. Ciao, cari. Grazie a te. Grazie a te. È una soledetta. Pure che la pia con notte. Eh, ma non l'ha ido. Eh, non l'ha ido. Eh, no, che non dà bene, no. Ghiè ida vecchio nono. Brava Carmela, se non c'è. Eh, guarda, sei molto brava anche tu. Come ti spiego una cosa a Carmela? A San signore non la conosco. Scusa, Maria. Non la conosco a lei. E non la pia con notte. E non la disconnotta? In Tula no. No, in Tula non beviti. Però con notte in Tula la odora le poesie. Eh, sicuramente. E noi fimo Maria. Sì, certo. E noi fimo. A Sedini. A Sedini. Ah, a Sedini. A Sedini. A Sedini. Io l'ho stata invitata a Sedini e non ero potuta andare. Eh, ma le ho preso ogni anno. Mi hanno salito da te. Però sinceramente, brava voi stessa. E intanto lei ha fatto un libro e come ne ha preparato un attimo. Brava Maria, ti dà un abbraccio. Maria, invitami quando presenti il libro. Chi mi fa che piacere deve andare. È in cantiere, guarda. Spero, entro l'anno di farcela. Speriamo nella fine dei lavori al più presto. Eh, certo che sì. Soprattutto col Cessarese perché sono un autodidatta. Quindi col Cessarese, sai, devi ingranare la marcia. Eh, sì. E non è uno scherzo. Ci vuole più lavoro che l'italiano. Eh, sì. Altro che. Quindi ci sto lavorando su ma spero entro l'anno di farcela. Sono un tanto a ridaccio. Quello sarà un libro che veramente dedico a me stessa. perché ci sta mettendo il cuore e l'anima. Eh, certo. Ancora di più di quello prima, di quello precedente. Già, lo creo. E poi fiamo su un pari. Spero di farcela veramente e di regalarvi questa magia. Brava Maria. Non sei voluta, sei boruta. Sì. No, non è unissimo. Non è un'altra domanda. Non è un'altra domanda. Non è un'altra domanda. E non è un'altra domanda. Continuamente al museo. Ah, sul museo. Al museo Salma. Salma. Sambato scorso. Ah, beh. A Bile. Bravo, Maria. Sono attenta a fare. Anche se non sto tanto bene, però sono sempre allerta. Bravo Maria. E così. Un abbraccio e ristrita a mano. Ciao Maria. Ciao, 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 ciao. Maria, questa è poi te. Eh, la conosco. Ma brava. Brava, brava Mera. Abbiamo fatto una gerata in pare in Borutta. Sì. Chi Maria. Eh. Va bene. Scusa, ma che abbiamo un'altra telefonata. No, sono scusato il pubblicitario. Scusatemi, non canto di sbagliare. Abbiamo sono scusato il pubblicitario. Allegra Coro. Via.